Oddio! Oddio la vittoria! E buon salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata. Comincio subito col dire che nel 2020 uscì Fall Guys, un gioco amatissimo, super apprezzato, super divertente. Ma solo gli abbonati a Play Plus potevano giocarci con la quantità di persone che volevano provarlo. Decisero di renderlo disponibile su tutte le piattaforme. Ma che cosa succede quando qualcosa diventa molto molto apprezzata dal pubblico? Succede questo. Invece di fagioli con le gambe abbiamo personaggi umanoidi che lo rendono lievemente più realistico. Le mappe sono tali e quali, ma per contrastare bene la concorrenza c'è pure su mobile. No, non ci giocherei mai sul cesso a questi giochi. Non perdiamo altro tempo ragazzi e vediamo come ce la caviamo in questo gioco. Con Fall Guys ho fatto abbastanza schifo. Allora non ho mai provato questo gioco. Proprio come Fall Guys, l'unica cosa che ho fatto è stata di cambiare il nome dell'avatar. Che oltretutto, dopo la prima volta che lo cambi, diventa pagamento. Allora abbassiamo questo maledetto volume. Madonna ragazzi, c'è. Oh, è tale e quale. Tale e quale. Cosa c'era scritto? Non l'ho fatto in tempo a leggere, non l'ho fatto in tempo. Oddio, 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 oddio. Oddio, si parte subito? Si scivola? Si scivola. Come si fa a schiare? Perché quegli altri scivolano? Oddio. Oddio, ma quanto cazzo scivolo? Finisce male? Finisce male? No, non finisce male. Dai, dai. Dai, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Maledette palle. Madonna, madonna. Oddio, oddio. Attenzione, attenzione. Rischio di farcela alla prima. Sicuramente ho parlato troppo presto. Invece no, invece no, invece no. Ce la fa, ce la fa. Dai, dai. Andiamo avanti. Successivo. Oddio, questo qual è? Quello che devi ricordarti le figure? Dimmi di no, ti prego. C'ho la memoria di un koala. No, invece no. Ti sparano le palle. E te, ovviamente, le devi schivare. Qui però non si scivolo, no, a differenza delle nostre di ghiaccio di prima. Oddio. Oddio. Mi sembra un pochino più facile, eh. Non vorrei sbagliarmi. Ho qualificato, mi sembra strano. No, vabbè. Ragazzi, finché ci va bene. Andiamo ancora avanti. Successive. Oddio. Sì, cambia un pochino un pochino un po' l'aspetto del materiale, insomma. Ora, molto più definito su Fall Guys, eh. E qui è tutto molto disegnato un po' male. Non è protagonabile la grafica, Fall Guys. Molto più professional. L'angolino. L'angolino. Bastardo! Oddio! Oddio! Eh, che pensavi, eh. Che pensavi, eh. Magionna, magionna. Te sei già morto per quanto mi... Non so come ho fatto. Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatto. E dai, madonna. Mori! L'ultimo. Uno. Ma vaffanculo. Un pochino più semplificato. Un pochino più minimale. Ancora più ottimizzato di Fall Guys. Molto più semplice e molto più veloce. Come gameplay. Però stessa azzolfa, insomma. C'è sempre la stessa roba, eh. Continuiamo la nostra battaglia. La nostra... Avventura. Però ora direi, dai. Per essere la prima volta. Non ce la siamo cavata così male. Togliamo anelli, togliamo tutto, perché... Dai, dai. Oddio, qui... Lo sapevo. Eh, ci ho pensato dopo. Che poi... Sinceramente, ma com'è che si salta due volte? Com'è che si fa la cosa, la... Ah, ok. Ah, devi pigiare due volte la barra. Mamma mia. Eccolo. Vai. Vai, vai. Vai. Ah, a parte, dai. Erano altri due, tre... Quanti ce n'era? È la prima è andata anche stavolta. Madonna, da fastidio, eh. Eh, qualcosa di diverso, dai. Qui che bisogna fare? Immagino bisogna fare... Gullo dall'altra parte! Una sorta di coso lì. Come si chiama? Questo è mio? Dai. Eccolo! Surprise, motherfucker! No! Bastardo! Uh-uh! Eh, dai! Dai, eccolo! 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 Oh, ma quelli intanto stanno a fare la torre con le palle. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! No, 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 no! No, no, no Salvataggioni No Ah, ma che? No, ma sono 3 a 0 per loro No, dai Ragazzi, ma facciamo schifo, dai Beh, dai, però Almeno una facciamola entrare, raga E che E sto già a 5 Una Una No, dai, no, no Non è possibile, non è possibile Non è possibile Non è possibile Senti, io vado da questa Attenzione No, 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 no Bastardo Ragazzi, ma che squadra di merda Madonna Dai, dai Cazzo Porta vuota Porta vuota Oh Oh Ah Maggi ni un Grazie a tutti.